Buongiorno a tutti e benvenuti alla conferenza di presentazione di Stefano Ascerawi. Buongiorno e bentornato. In virtù delle limitazioni relative al Covid-19, come sapete i giornalisti non sono presenti in sala, hanno inviato le domande all'ufficio stampa e due colleghi di Roma Radio e Roma TV ci aiuteranno a porgerle a Stefano. È invece presente in sala l'inviato di Sky Assogna, a cui lasciamo la parola per la conferenza. Bentornato Stefano. Manchi da un anno e mezzo, hai giocato in un calcio molto diverso, in un campionato molto diverso da quello italiano, con intensità diversa, con ritmi diversi e hai avuto una lunga inattività e anche il contagio da Covid. Ti chiedo se c'è il rischio che tu abbia perso qualcosa a livello di brillantezza e quando sarei pronto per fare il titolare nuovamente in Serie A? Allora, sì, diciamo che sono stato fermo qualche mese dopo la nazionale. Mi sono allenato da solo e ho cercato ovviamente di fare il massimo per arrivare ad una buona condizione. È chiaro che adesso mi serve ancora tempo per ritrovare la mia condizione migliore, però stiamo lavorando con i preparatori, abbiamo già fatto un programma e di giorno in giorno lo aggiorniamo in base alle mie sensazioni, a come mi sento. Però sicuramente c'è tanta voglia, tanto entusiasmo di ricominciare con questa maglia. Fonseca ha cambiato fisionomia alla squadra, rinunciando agli esterni che non erano andati bene negli ultimi anni e giocando un calcio diverso con una prima punta e due trequartisti. Hai parlato con l'allenatore per una tua collocazione tattica in questa nuova fisionomia della Roma? Sì, abbiamo avuto modo di parlare il primo giorno che sono arrivato. Diciamo che l'attacco non è stato stravolto più di tanto a livello di posizione, nel senso che io sono sempre partito largo a sinistra per poi accentrarmi. Un sistema di gioco che era simile anche a quello di Francesco, dove voleva che i due esterni si accentrassero. Però ovviamente gli ho fatto presente che io sono a piena disposizione per ricoprire tutti i ruoli dell'attacco. Domanda da parte di Gazzetta dello Sport. Nel tuo ruolo c'è tanta concorrenza e di qualità. Per l'europeo hai bisogno di giocare quante più partite possibili. Per te è uno stimolo o un timore? Non è mai un timore, soprattutto quando giochi ad alti livelli e ti confronti con giocatori di grande qualità. Per cui è solamente uno stimolo a fare sempre meglio. Io poi sono entrato anche nel calcio quando ero piccolo, quindi mi sono sempre confrontato per fortuna con grandi giocatori e per me è sempre stato un grande stimolo. Poi è chiaro che ovviamente più concorrenza c'è vuol dire che c'è tanta qualità e più possibilità di vincere. Per cui ben venga la concorrenza. Domanda dell'Ansa. Hai visto la gara con il Verona vicino a Dzeko. Ti è sembrato sereno nonostante quanto è successo in questi ultimi giorni? Sì, l'ho visto molto sereno, col sorriso. Sono contento di averlo ritrovato, così come anche tutti i miei ex compagni. E' felice di aver trovato anche quelli nuovi. Devo dire veramente un clima sereno. Anche il Corriere dello Sport vuole farti una domanda su Edin. Dicendo, ti hai avuto una lite con Gekko nello spogliatoio di Ferrara durante la prima esperienza alla Roma, lite che poi venne risolta. Conoscendo Edin, qual è la strada migliore per riaverlo al 100%? Tutti sappiamo quali sono le qualità di Edin. È un giocatore anche di grande personalità, quindi sono sicuro che troverà da sé la strada per ritornare ad essere un giocatore importante per questa Roma. Ovviamente sono state dinamiche di spogliatoio che nascono e muoiono quel giorno, quindi non è stato assolutamente un problema. Domanda di Centrosuono Sport. Hai fatto un'esperienza esotica che ti ha portato a conoscere una realtà relativamente nuova nel calcio come quella cinese. Ti chiedo, tralasciando il lato economico, sono stati più i pregi del potersi confrontare con una cultura diversa oppure i difetti di uscire un pochino fuori dal calcio che conta? E a che punto è il calcio cinese? Allora, diciamo che è stata un'esperienza molto particolare perché è stata condizionata dalla pandemia e i primi sei mesi io mi alternai tra club e nazionale. Però nonostante questo sono comunque riuscito a vincere un trofeo, il mio primo trofeo da protagonista sul campo. Questa è stata una soddisfazione e un ricordo che mi porto dentro. Poi dopo la fine del campionato siamo stati fermi tanto tempo, quasi sette mesi senza giocare partite ufficiali, quindi solo allenandoci. Quindi a livello calcistico non è stato tanto semplice. Però considerando che sono tornato comunque nella squadra dove volevo ritornare dopo un anno e mezzo con l'Europea alle porte, sicuramente è un aspetto positivo di cui sono contento. Domanda da parte del Tempo. Che impressione hai sulla Roma che ritrovi? Cosa hai notato di diverso nella squadra e nella società? Allora, innanzitutto sono molto contento di ritrovare questa società. È stata un'accoglienza molto positiva e l'ho sempre detto, è come se non me ne fossi mai andato anche a livello di rapporto. Perché l'ho sempre detto, ho costruito molto di più che un percorso calcistico. Ho instaurato rapporti con tantissime persone, anche al di fuori del campo, per cui l'accoglienza è stata sicuramente molto positiva. Mi ha fatto tanto piacere ritrovare tutte le persone presenti qui a Trigoria e mi ha fatto piacere soprattutto ricevere anche l'affetto e la fiducia da parte del presidente, del direttore, Thiago e del mister soprattutto anche perché mi hanno dimostrato sin dall'inizio subito grande interesse e grande fiducia. Però come in tutte le cose, come dico sempre, ovviamente poi sta al giocatore ripagare questa fiducia. E io mi auguro ovviamente di farlo il prima possibile. Domanda del romanista. L'ultima partita giocata con la maglia della Roma era quella dell'addio di De Rossi. C'erano 62.000 spettatori e Dzeko era un punto fermo di quella squadra. Con il tempo sono cambiato un sacco di cose, il pubblico tornerà. Quanto al tuo rapporto con Dzeko, soprattutto nell'ottica del nuovo sistema di gioco, come lo vedi? Ma come dicevo prima, a livello di sistema di gioco non penso sia cambiato tantissimo perché comunque giochiamo sempre, parlo di attacco, con due esterni che giocando larghi possono venire dentro a giocare con Edin, per cui non si è stravolto tanto da quel punto di vista. Ovviamente vedendo lo stadio vuoto un po' ti manca quell'incitamento, quell'affetto da parte dei tifosi che soprattutto qui all'Olimpico sentiamo parecchio. Quindi mi auguro ovviamente possa tornare tutta la normalità come prima e riavere i nostri tifosi allo stadio. Rete Sport è riabituato ad un presidente che non c'era mai. Visto anche che c'è stata una situazione complicata nello spogliatoio, quanto conta per te avere la proprietà qui a Trigoria? Credo che conti tanto per tutta la squadra e per tutto l'ambiente in generale, sentire la vicinanza del proprio presidente, che è una spinta maggiore per tutti noi. Ho visto come sono arrivato qua grandissima disponibilità da parte di tutti, dal direttore al presidente, per cui è sicuramente una cosa positiva per tutti. È chiaro che come dicevo prima, poi sta ai giocatori trovare la responsabilità poi di fare il proprio lavoro con grande professionalità e con grande diligenza. Teleradio Stereo, il tuo ritorno è stato ad un passo già ad inizio ottobre. Ci spieghi perché non è andata a buon fine la trattativa? Lo Shanghai a gennaio si è ammorbidito rispetto alle richieste di fine estate? Ma diciamo sì, è stata una situazione un po' particolare. Poi sappiamo tutti che nel calcio non sempre i tempi coincidono e quindi c'è stata una situazione un po' così di attesa, però devo dire che poi è andata a buon fine. Quindi posso dire che sono veramente contento, entusiasta di essere tornato qui. Quindi non vedo veramente l'ora di poter riscrivere un altro capitolo importante con questa maglia. Domanda nostra da parte di Roma TV. Già ci hai detto nei giorni scorsi che non hai mai smesso di seguire la Roma e il campionato italiano evidentemente. Che idea ti sei fatto di questo che è sicuramente un campionato più aperto rispetto agli anni passati e come collochi la Roma? Che ambizioni può avere questa squadra in un campionato del genere? Sì, non ho mai smesso di seguire la Roma come tutto il campionato di Serie A. Questa è una squadra che negli anni si è sempre posta l'obiettivo della Champions e anche di più, perché ha sempre avuto tutte le potenzialità per arrivare in alto. È chiaro che il campionato è molto più competitivo e più avvincente quest'anno. Tantissime squadre si sono rinforzate, ma io ho trovato veramente un ambiente molto positivo, soprattutto di una squadra che si aiuta e quindi questo credo che sia fondamentale, perché anche nei movimenti difficili poi quando c'è un aiuto reciproco si riesce ad uscirne. Però penso che noi dobbiamo pensare, so che è una frase un po' retorica, però dobbiamo sempre pensare di partita in partita, perché poi pensando di partita in partita, vincere ogni partita poi si raggiungono risultati importanti. Noi abbiamo l'obiettivo ovviamente della Champions e personalmente sicuramente vorrei cominciare così come ho fatto nel 2016 quando sono arrivato e di guadagnarmi un posto all'Europeo. Domanda nostra di Roma Radio, hai mostrato di sentire un legame forte con Roma. Ci dici una cosa della città e della squadra che ti sono mancate in questo tempo in cui non sei stato qui? Sì, come ho detto, avrei ritrovato tutte le persone con cui ho instaurato un rapporto, però devo dire che nel periodo in cui sono stato lontano, comunque quando c'è stata la possibilità di ritornare come a ottobre, ho sempre sentito grande affetto da parte della gente e questo per me è stato un motivo di grande orgoglio. Anche quando sono tornato a febbraio dell'anno scorso a guardare una partita di Europa League e della Roma, allo stadio ho visto veramente tanta gente che mi vuole bene e questo per me è sicuramente un motivo in più e uno stimolo in più per ricominciare alla grande. Grazie a tutti e ancora bentornato. Grazie. Com'è Sciagate? Molto, perché è internazionale, quindi... Sì, poi sono 28 milioni di persone. Quanti? No, è... Met me è allucinante. Grazie. 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 Grazie.